Dopo due pareggi di fila, i Rimini torna a sorridere il campionato. La squadra affidata a Gianluca Lighetti, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro Imatelica, ha voglia di dare al tecnico debuttante il campionato la prima gioia di stagione. E alla fine dei conti è un successo che vale doppio per i Biancorossi, che soffrono, pungono nel momento giusto e concedono a una Correggese che seppur ultima della classe ci si dimostra avversario tosto. All'ottavo Biancorossi, subito in avanti, in questa incursione per i Corossi Simoncelli, libera la difesa della Correggese davanti la propria porta. A tredicesimo però i Rimini passa. L'iniziale supremazia degli ospiti si concretizza con un gol di Cicarevic, che sfrutta un suggerimento di Lighini e batte Sani con un tiro preciso. Il Monteregrino, una volta entrato in area di rigore, non può fare altro che ringraziare e festeggiare i gol con i compagni. Azione che parte da lontano e merita il replay. Al ventitrenesimo, attraversione di Mammetti, giù allontana, Gallappi riprende e calcia a botta sicura, Scotti vola e alza, oltre alla traversa. Le crimini, un giro di lancette più tardi per i padroni di casa per un intervento in mano su un pallone agganciato da Mammetti. L'arbitro fa segno di proseguire. Il replay forse ci dice qualcosa di più. Al venticinquesimo, Sereni punta giù, lo salta e va al cross basso, provvidenziale l'intervento di Brighi, che anticipa tutti. A quarantottesimo, al terzo minuto di recupero, ci prova Tagliabacche. Scotti le spinge e termina qui, la prima frazione, con le squadre a riposo, solo 0-1. Nella ripresa al quinto, la Correggese va in rete, sugli sviluppi di una punizione Mammetti in beccarizzitelli, che batte Scotti. Correggese 1, Rimini 1, esultanza meritata per l'ex attaccante della ribelle. I Rimini torna finalmente a farsi vedere all'undicesimo dalle parti di Sari, che deve intervenire su una conclusione di Variora. Pallone bloccato, senza problemi. Al dodicesimo risponde subito una Correggese, con Tagliabacche, il cui tiro dalla distanza sfila alto di poco. Al ventesimo si complicano le cose per i Rimini. Buonaventura commette il secondo fallo a Solari, scatta il secondo cartellio giallo e dunque l'espulsione. Rimini in 10 contro 11, l'attaccante, a passo piuttosto nervoso, viene mandato alzitempo sotto la doccia, ma nel momento peggiore i Rimini passano. Al 32esimo arriva il gol, sulla successiva punizione battuta Cicarevic e Brighi a saltare più in alto di tutti e a riportare in vantaggio i Rimini. Terzo centro di stagione per il difensore, terzo centro decisivo ai fini dei punti ottenuti, che sono valci fino a questo momento due vittorie e un pari, quello della prima giornata col Fiorenzo Ala. Al 34esimo la Correggesse prova a reagire alla mazzata. Il colpo di testa alto di Pucca rimane l'unico tentativo verso lo specchio della porta difesa da Scotti. Infatti dopo sei minuti di recupero l'arbitro fischia la fine. I Rimini sbanca il Borelli di Correggio al termine di una partita molto combattuta e che ha visto i biancorossi di Righetti prevalere in 10 contro 11. E' soldo positivo per il nuovo tecnico che ha preso il posto di Muccioli, successo importantissimo se si considera che è stato ottenuto per l'appunto in 10 uomini.